Striscioni, volantini, messaggi social, tutti con un unico denominatore, l'appello al pubblico di Torre del Greco per accorrere in massa l'Americo Ligori in vista del derby contro l'Avellino. Un appuntamento fondamentale per i biancorossi che può elevarsi decisivo per il cammino a salvezza, imboccato con decisione dall'arrivo di mister Leonardo Menichini sulla panchina corallina. Domenica sarà una di quelle giornate in cui il famoso rugito dell'impianto di Viale Ungheria può decidere una stagione. I corallini sono in striscia positiva da quattro giornate con due vittorie e altre tanti pareggi. Alla vigilia di Torre del Greco ci sono ancora tanti dubbi del mister Leonardo Menichini, tutti legati a quelli di formazione, più che al modulo che a 3500 sono gli uomini in campo, tra cui c'è un balottaggio con un ex Avellino protagonista che è Daniele Franco a centrocampo visto che c'è Scaccambano, Siglo e Insidio. Tema ex che è molto importante visto che la rappresenta come ex Avellino cacciatore il calibro di Casalini che è diventato un leader a Torre del Greco in due o tre mesi. Marcone idem come è stato anche decisivo nell'ultima partita con una parata provvidenza da pochi minuti dalla fine. Da rivedere più che altro Riccardo Maniero visto che quest'anno è sempre mancato all'appello della sua forma migliore e comunque ogni scelta sarà appunto proprio decida all'ultimo secondo perché come c'è sempre abituato il mister toscano. Chiave formazione si va verso la conferma del 3-5-2. Marcone tra i pali, linea 3, difesa con Maestrelli, Esempio e Panelli. Sacani a destra con testa a sinistra, centrocampo dal sapore di Amarcord con Pugliese, Irpino di Monteforte, Irpino, Casarini e Franco. L'attacco peserà tutto sulle spalle di Maniero e Iallov. L'attaccante ex Avellino ha realizzato fin qui appena 5 gol in stagione.